La parzelletta di Geppo Una vecchia sitella e non parliamo di te Ignazio si reca in un'agenzia matrimoniale non appena si mette seduto c'è l'operatore lì e questa comincia a fare così, allora guardi io cerco un marito simpatico, virtuoso che sappia parlare di tutto e di niente voglio anche che ami restare in casa e che stia zitto quando lo desidero allora quello saluto e fa signora abbiamo veramente quello che fa per lei, ma davvero? si, in televisore ah 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 ah